Cioè, se ascolto la pronuncia di Google è impronunciabile, o-u-song, cioè incredibile, o-u-song, vabbè, vabbè, ti sei messo d'accordo con la pronuncia, facciamo partire. Prova, prova Sassa, prova, uno, due, posizionamento. Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte di questo infinito giro di bite e beat c'è, come sempre, con la sua, immagino, cravatta russa, Giuseppe Franco, Che saluto, ci sei Giuseppe? Io ci sono, ci sono, ma posso dire una cosa proprio fuori dei denti, senza essere, non lo so, scortese? Però sti beat mi hanno un po' rotti i coyote, se no, nel senso che, non fraintendetemi, cioè, perché adesso, voglio dire, facevamo questa riflessione che ci siamo detti, continuiamo, aspetta, mi ha detto, aspetta un attimo che lancio la sigla. Perché, guarda, quante ore, per carità, è giusto, parlo, nel momento in cui stiamo registrando, ci troviamo proprio nel pieno di quella che è l'emergenza coronavirus, però siamo costantemente con questi mezzi, cioè, i microfoni, i webcam, lo facciamo per attività, per lavoro, per consulenza, con gli amici, non so, si fa la pizza in webcam, stiamo arrivando veramente. Stasera, stasera io ho appuntamento con gli amici in webcam per mangiare una pizza insieme, facciamo la pizza stasera, ognuno a casa propria. È incredibile, per carità, mezzi straordinari, ma la cosa che mi fa sorridere è che magari io e te, che utilizzavamo queste cose da sempre, eravamo quelli che prima dicevamo agli altri, ma sai che questa cosa se la usi, sai quanto è importante con la web, puoi fare qualche conferenza. Noi però adesso ci siamo trovati a quello che già facevamo prima, più il carico necessario di quello che è il periodo. E a un certo punto, voglio dire, non so, stasera sai che cosa faccio? E poi iniziamo ovviamente la puntata, prendo due bicchiere di plastica, faccio i fori con il filo e voglio parlare con quelle cose lì, basta. Iniziamo, va. No hai ragione, ormai sono una figura mitologica, formato da metà uomo e metà webcam, praticamente. Senti, oggi parliamo di posizionamento, ovvero come posizionarci non sul divano, ma come posizionare praticamente qualsiasi tipo di prodotto all'interno di un mercato, perché il posizionamento è una cosa fondamentale, quindi definire il posizionamento per il proprio prodotto prima ancora di iniziare una comunicazione, prima ancora di iniziare qualsiasi tipo di attività di vendita è fondamentale, perché viceversa se fallisci il posizionamento fallisci il marketing e le vendite. E ora qui arriva una cosa, uno scoglio, perché questo scoglio? Perché l'autrice di questo libro, da cui poi mi ispiro, ci ispiriamo per questa puntata, perché devo dire che è stato un libro molto interessante che ho letto un bel po' di tempo fa, è April Downford. E fin qua tutto bene, ma il titolo del libro è praticamente impronunciabile per me, che sono una capra con l'inglese. Dovrebbe essere Obviously Awesome. Ma secondo me dai, ci può passare, perché soprattutto l'impegno, lo dico per chi ci sta ascoltando, dell'allenamento che ha fatto prima di pronunciare. Ho anche ascoltato Google Traduttore, ma la signorina ha detto Google Traduttore, le ha detto un paio di volte e poi ha detto guarda, fa tu. Sì, ti ha risposto così, proprio fa tu. Sì, proprio così, napoletano, ha detto fa tu. Che si traduce così letteralmente direi in ovviamente fantastico, poi in italiano probabilmente il titolo verrà tradotto in un altro modo. Però ora al di là di questo, l'analisi che viene fatta in questo libro, più tutte le cose che abbiamo aggiunto noi in questa puntata, è molto interessante perché definire correttamente il posizionamento del tuo prodotto, come vi ho detto, è importante perché altrimenti veramente si buttano un sacco di soldi. Ed è quello che poi succede la maggior parte delle volte, cioè la gente parte con un prodotto senza aver fatto nessuna analisi nel mercato, né dei clienti, né del posizionamento. E quindi si finisce poi per crollare definitivamente prima ancora di iniziare. Che ne pensi Giuseppe? Assolutamente, tra l'altro è una di quelle cose che io poi ho anche assistito, un certo periodo anche all'inizio per quanto mi riguardava non ero così soffermato quando avevo vent'anni e cominciavo a vedere queste cose, a leggere delle cose, non gli davo così tanta importanza. Invece poi scopri che ci sono tanti casi di persone che hanno fatto qualcosa, poi si sono mosse, hanno ottenuto e poi si sono bloccate. Tu dici ma che cosa è successo? Successo è che mancava proprio una base solida e la base solida secondo me è proprio questa. No ma è così anche perché c'è una cosa che bisogna chiedere, una volta mi ricordo che ci fu un, forse era un posto di Riccardo Scandellari, non mi ricordo, chiede ai tuoi clienti che cosa fai, perché lui era partito da un concetto, se ricordo bene altrimenti Riccardo ci perdonerà, che c'erano dei suoi clienti che effettivamente non avevano capito lui che cosa facesse e quindi dici da questa sua esperienza, da questa lezione aveva compreso quanto è importante poi comprendere il posizionamento, cioè andare poi a capire, cioè a identificare bene poi come ci stiamo proiettando nei confronti dei nostri clienti, perché a volte i nostri stessi clienti non hanno compreso bene noi poi effettivamente cosa facciamo, cioè nel senso, ok sei una pizzeria, ok sei un'agenzia di web marketing, ok l'abbiamo capito in livello di massima, ma cosa hai, qual è il tuo posizionamento, cioè cosa hai di particolare, cosa hai di diverso da qualsiasi altra pizzeria, cosa hai di diverso da qualsiasi altra agenzia di web marketing, cosa hai di diverso da qualsiasi tipo di avvocato o di qualsiasi consulente che in questo momento c'è sul mercato, perché se il tuo cliente non riesce a capire effettivamente tu che cosa fai, allora si inventerà una sua posizione, cioè nel senso che ti prenderà nella sua mente, quindi nella sua ipotetica immaginazione di quello che fai, e ti andrà a collocare da qualche parte e probabilmente quella parte dove ti sta andando a collocare o non è corretta, o semplicemente non è quello che tu vorresti, per questo la cosa importante è uscire fuori con una comunicazione chiara e definita di ciò che sei e che fai, quindi primo test è prova a chiedere alle persone che sono vicino, ma io che cosa faccio? Sembra che fare di questa roba, ma è importante. Tra l'altro mi veniva in mente mentre parlavi proprio di avvocato, sì dobbiamo sapere chi siamo e cosa facciamo di diverso, in realtà ci sarebbero due step, perché mentre ci troviamo in un'attività, io fai finta che sia un avvocato, allora tu stai dicendo giustamente che devo essere un avvocato, qual è la differenza che ho rispetto agli altri per capire, cioè per posizionarmi, perché il caso dell'avvocato ancora ancora l'abbiamo già digerito dal punto di vista della conoscenza, quando ti dico un avvocato sai che cosa sta facendo, però allargo un po' e che cosa che prevedo per la maggior parte di coloro che ci seguono, che ci sono delle attività che non sono quelle canoniche, quindi che non sono quelle classiche e facilmente riconoscibili, ancora lì si fa il discorso, si fa più difficile, si fa più difficile perché devi far capire effettivamente cosa stai facendo e come lo stai facendo in modo diverso, quindi ci sono questi due step ed ecco perché è ancora più fondamentale tenere d'occhio questo aspetto del posizionamento. Detto però c'è anche una cosa che dovremmo sempre sapere o far pace, che probabilmente quando noi comunichiamo ci sarà sempre una parte, diciamo di non mercato, non so se il termine sia quello giusto, però di persone che non sono vicino a quello che stiamo facendo, che non capiranno mai quello che stiamo raccontando, questo dobbiamo saperlo, però dobbiamo invece ricordarci che quelle persone a cui stiamo mirando o quelle devono avere delle idee chiare, altrimenti rischi di dire cosa sta facendo Giuseppe, buh, questa è la risposta che non dovremmo mai avere. Guarda, forse uno degli autori che ha battuto sul posizionamento e forse a te, probabilmente ne abbiamo parlato qualche altra volta, non ti sei neanche tanto simpatico, è Al Reis, come si chiama? Al Reis, Al Reis, Al Reis, forse non vorrei sbagliarmi, ma quello probabilmente è un libro degli anni Ottanta, che poi è tornato alla ribalta ultimamente, perché ogni tanto arriva qualche super guru e si inventa qualcosa che già è stato fatto tempo fa e sembra che è una cosa degli ultimi tempi. Nel frattempo che parli vado a cercare nella mia libreria la versione che ho, ti dico che anno è, vai avanti. Sì, vedi che probabilmente degli anni Ottanta, forse 1980, non lo so, ma dovrebbe essere quello il periodo, e in quel libro che lui ha parlato del posizionamento c'era un concetto fondamentale che era quello del first in mind, cioè essere il primo nella testa del tuo potenziale cliente quando al tuo potenziale cliente viene fuori un'esigenza, un problema, insomma qualcosa che deve affrontare. Cioè rientrando un'altra volta nel concetto, tu dicevi prima l'avvocato, noi sappiamo bene l'avvocato che cosa fa, però poi in realtà se vai scavi scavi, ci sono quegli avvocati magari specializzati su determinate cose molto particolari, non lo so, mi perdonino gli avvocati perché non è il mio mestiere, però magari ci sono quegli avvocati che sono super specializzati sulle multe automobilistiche, tanto per fare un esempio. Allora se tu sei riconosciuto come un super esperto in multe automobilistiche probabilmente quando una persona prende una multa e vuole recuperare quei soldi perché crede che sia ingiusto averla presa, tu sei la prima persona che viene in testa a quel cliente e quindi si rivolgerà a te e non si rivolgerà a un qualsiasi avvocato sulla piazza perché sa che tu non solo sei un avvocato e quindi andiamo diciamo mercato degli avvocati, ma sei specifico per quel tipo di argomento, quindi sei posizionato in maniera estremamente verticale per quella cosa lì. Poi come dici tante volte tu non possiamo essere forse estremamente verticali perché qualche volta non ci abbiamo poi neanche il mercato di gente che ci compra. Per quanto riguarda le multe in Italia siamo sicuri che è un mercato molto vasto su questa roba. Non so se hai trovato il libro. Sì sì, 1980, prima pubblicazione, quella la versione della testa messa da un lato, positioning, 1980. La mia memoria non mi ha ingannato. Mi portavo dietro da cuffia mentre parlavi che dicevi del fatto del posizionamento e lui in quel libro addirittura dava spazio nella mente dei primi tre marchi, non so se io dico in Italia pasta per intenderci, no dirò varilla, un altro e poi non andrò oltre il terzo. E quindi terzo brand, dopo di quello non esisti più. Poi però c'è anche da dire una cosa. Lui parlava di prodotti, penso anche che un professionista, ecco perché tu mi dicevi, non sono tanto d'accordo, perché forse dal punto di vista del professionista non sempre si sposa bene questa cosa. Però è vero il fatto che forse anzi dobbiamo stare a un livello ancora più alto. Non abbiamo tempo per avere, cioè non c'è più spazio per tre persone, dovremmo essere veramente i primi in una sezione che noi decidiamo di essere. Cioè se io decido di essere il primo nelle multe, parlavi di questo, un avvocato di multe, non so se mi sono perso un pezzo. Ecco lì, voglio dire, quella nicchia piccola che non deve essere così proprio piccola che poi non abbiamo come viverci su quello, allora lì non c'è spazio per tre persone, come diceva magari Orrisse ai tempi. Lì abbiamo io solo, punto. Devo essere solo io quello che ha creato questa montagna e sono il capo di quella montagna lì. Cosa che non è semplice da fare, ci vuole comunque uno studio, una ricerca, un'analisi, però è quella la direzione da prendere. Ma è chiaro che per fare una cosa del genere è indispensabile poi rendersi conto di quelli che sono i propri punti di forza, i propri punti di debolezza e grazie poi a questo esame andare un po' a capire poi chi sono i concorrenti e in base a tutta questa analisi andare a capire poi qual è il contesto. Perché poi Danford fa un ragionamento molto interessante intorno a quello che è il contesto, cioè dice il tuo posizionamento non può prescindere dal contesto, anzi probabilmente il contesto definisce il posizionamento e fa un esempio interessante, dice devi immaginare il contesto come le prime scene di un film. Quando inizia un film e parte un certo tipo di musica, parte immediatamente una scena di inseguimento automobilistico, auto che saltono, macchine che si rincorrono, sparatori e roba simile, immediatamente dalla musica, dalle prime scene, dallo scenario eccetera eccetera ti rendi conto di che tipo di film stai andando a vedere, che tipo di film stai guardando, se è un film avventurale, se è un film d'azione, se è un film romantico, se è un film lento, se è un film veloce, diciamo che già il contesto iniziale di un film ti fa capire dove si è posizionato questo film, cioè che tipo di film andrai a vedere. Il posizionamento diciamo per quanto riguarda un prodotto ha a che fare con la tua comunicazione, il prezzo, le caratteristiche del prodotto, il tipo di brand, i partner, i clienti, i concorrenti, c'è tutta questa roba qui. Come vai a creare il contesto? Perché poi il contesto definisce anche il prezzo, perché poi ci sta un bellissimo esempio, c'è un musicista, un violinista che poi tra l'altro io amo perché a me piace ascoltare il violino, è una delle cose che non lo suono ma mi piace molto, violino e violoncello in particolare, e ci sta Joshua Bell che fece un esperimento un bel po' di tempo fa, tutti mi presenti che Joshua Bell nei suoi concerti, mediamente un biglietto per andare a vedere un concerto di Joshua Bell di 300 euro, cioè quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di eccezionale. E allora lui andò, e questo l'hanno fatto anche vari altri artisti, andò alla metropolitana, se non mi sbaglio New York o Washington, ora non ricordo perfettamente, all'ora di punta, quando c'erano insomma più persone per strada, e si cominciò a suonare il suo magnifico violino e lo suonò per circa un'ora. Penso che gli passarono davanti forse mille persone. Comunque in quella, in quell'ora di concerto di Joshua Bell, con circa mille persone che gli passarono di fronte, lui fatturò neanche 30 dollari. Perché Joshua Bell, nonostante la sua musica fosse bella, però il bello suo non è bello in italiano, è giusto per aiutarti. No, lo so, è campana. No, per aiutarti, no? No, no, mi mi piaceva sorridere. Scusate questa cosa, stiamo parlando di una cosa seria e poi il mio cervello ha avuto un cortocircuito, sarà che perché siamo chiusi nelle nostre navicelle. Però, allora, perché una persona è disposta a spendere 300 euro per vedere Joshua Bell in un suo concerto, magari in un teatro importante e così via, e alla fine invece gli lasciano neanche 30 dollari di fuori alla metropolitana, sapendo che poi la musica è sempre la stessa. Questo vuol dire, il prodotto Joshua Bell è sempre lo stesso, il suo violino è sempre lo stesso, la qualità della sua musica è sempre la stessa, cambia il contesto nel quale è posizionato il prodotto di qualità, cambia la reazione della gente. Per questo è importante, quando c'hai il tuo prodotto e il tutto, andare a capire poi qual è il contesto nel quale devi andare a mettere il tuo prodotto. Non è facile questa cosa, Giuseppe, aiutami. Non è assolutamente facile, hai citato uno dei grandi esperimenti che fa capire questa cosa. Poi potremmo anche andare nel popcorn solito per dire che esiste posizionamento di superficie, posizionamento profondo, come in questo caso è un posizionamento di superficie che dicevi tu, il fatto del contesto che è dietro, nel senso io faccio un video dietro Ole, la piscina, faccio percepire una cosa ancora prima di parlare. Volevo anche aggiungere che tu giustamente hai detto, questa persona che è messa in quel contesto aveva perso il valore oggettivamente, cioè la sua bravura. Era sempre quella persona lì, alla fine, brava. Però le persone non sono state in grado di capire, di riconoscere il suo valore, cioè come violinista. Allora, in questo caso, tu che ascolti il violino, se non hai conoscenze musicali, non mi sai dire se è bravo o meno a suonare il violino. Dirai, è bravo, ok? Perché ti piace il suono. L'unico che ti può riconoscere è un tuo collega musicista che dice bravo, lo sa fare in una certa maniera, cioè ha dei mezzi, ha delle conoscenze che non tutti hanno. Questo perché lo dico? Lo dico soprattutto, uno perché la cosa sai che io ne faccio una bandiera di ciò che spesso noi quando comunichiamo pensiamo di fare bella figura col collega e non con chi ci deve seguire. Ma a tutti quelli che in questo istante ci stanno ascoltando delle volte, stanno facendo delle cose grandiose nel loro ambito, ma forse per il contesto non stanno emergendo e poi notano invece che qualcuno messi in un contesto diverso viene visto come una santità e lui invece si deprime perché non sta andando avanti. Allora lì un ragionamento sul contesto va fatto. Come ti trovi? È un po' come quelli che seguono il carro del vincitore, no? Dice questo è bravo e non notano quell'altro che si trova in un contesto diverso. Anche lì si crea confusione. In questo caso è proprio il fatto di arrivare prima che ti facilita. Sai quando una persona arriva prima su un argomento, su un qualcosa, paga purtroppo quello che arriva dopo per questo motivo. Forse perché poi il suo contesto non gli dà la possibilità di emergere. Infatti su questo esperimento guarda potremmo fare dei collegamenti sul marketing infiniti perché si presta in tutte le forme. Però tornando proprio al discorso di quello che stavi dicendo, gli mancano quegli elementi contestuali e quindi è come se lui fosse annullato nel suo valore, in quello che è. Perché il concetto qual è? Che le persone in realtà hanno bisogno di un contesto per dare senso al mondo. Cioè hanno bisogno di un contesto per dare senso a quel prodotto, per dare senso anche alla spesa che stanno per affrontare. Cioè il discorso è che se io vedo un orologio su una bancarella di legno, gli do un contesto e quindi sono disposto a spendere fino a un certo prezzo. Magari dico vabbè io ho 20 euro, li spendo per questo orologio. Se lo stesso tipo di orologio lo vedo all'interno di una gioielleria su un bel velluto con un faretto che lo sta illuminando in una situazione molto particolare, ancora prima di capire qual è il brand, se è un Rolex o un'altra cosa, magari sono già parto con l'idea che probabilmente devo spendere 300 euro. Perché il contesto attorno è diverso. Questo è un contesto semplice da comprendere, perché è un contesto di superficie, stiamo parlando di quello che c'è attorno. Il contesto un po' più complesso è capire che a volte noi, come dicevi tu giustamente, possiamo anche avere un prodotto di altissima qualità, ma lo stiamo andando a mettere in un contesto che lo svilisce o che non gli dà la giusta importanza. Per cui andiamo a parlare ad un pubblico che non vuole quel tipo di prodotto fatto in quel modo e quindi non è disposto magari, nonostante è un super prodotto di qualità, è un super prodotto di altissimo livello, a comprarlo al prezzo che noi abbiamo in testa. E qui ci andiamo a impegolare praticamente in un discorso complicato perché molto spesso che cosa succede? Che noi abbiamo nella testa l'idea che il posizionamento non possa cambiare, mentre in realtà il posizionamento può cambiare come? Perché? Perché, che ne so, l'idea del prodotto che avevamo in testa all'inizio è cambiato, si è evoluto ed è diventato un'altra cosa, oppure addirittura è cambiato il mercato. E l'esempio che fa la stessa April Danford è molto interessante, lei parla di una torta, dici tu immagina che magari stai facendo una torta, sei uno che vuole produrre una torta, allora cominci a lavorare sulla produzione di questa torta e magari immagini di creare un dessert elaborato, una bella torta con delle creme particolari eccetera eccetera e allora cominci a posizionare nella tua testa e cominci a lavorare intorno a questo prodotto immaginando di vendere magari o in pasticceria di un certo livello oppure magari di darlo proprio a dei ristoranti che propongono alla fine del pasto di essere elaborati insomma di un certo tipo. E quindi in quel momento chi sono i tuoi competitor a livello sempre di prodotto? Saranno magari altre torte, altri gelati, dessert di un certo tipo e così via? E che hanno tutti quanti un certo tipo di fascia di prezzo? E chi sono i tuoi potenziali clienti? E sono quelle persone che in qualche modo sono come dire orientate a mangiare questi dessert elaborati e allora per provare a distinguerti dagli altri perché dici ok la mia fetta di torta poi sarà una fetta di torta uguale a tutte quante le altre, ti scervelli, pensi e dici ok allora che cosa posso fare? Magari dentro ci metto, visto che c'ho un caramello e devo creare una parte salata del caramello, posso immaginare di metterci un sale che viene non so non mi ricordo mi sembra forse dall'Himalaya, metto un sale particolare che viene dall'Himalaya e quindi dico che la mia torta c'ha un caramello con un sale che viene dall'Himalaya e quindi questo mi va a posizionare in maniera completamente diversa o particolare perché creo un elemento di particolarità al mio prodotto in modo tale che le persone lo possono scegliere. Però che cosa accade? E poi lascio a te la parola per commentare un po' questa storia che è interessante. Lei dice che cosa accade se poi ti accorgi che il tuo prodotto funziona meglio quando, che ne so, stai facendo una fase di test e ti rendi conto che il tuo prodotto viene meglio se lo crei in una versione più piccola. Magari invece di una torta diventa più simile a un muffin, lo riesci a vendere meglio in una situazione di monoporzione, quindi sia anche a livello di produzione, quindi hai costi di produzione più bassi, riesci a produrre di più, le persone sono più interessate alla questione della monoporzione, dello snack, eccetera. In questo momento comincia a cambiare tutto perché non sei più in competizione con quelle torte, con quella situazione di fasce di prezzo, ma cominci a diventare, vai in competizione con, non so, muffin e con altri elementi più piccoli. Probabilmente non stai più nei ristoranti ma stai nelle caffetterie, stai nei bar, stai in competizione con le ciambelle, i cornetti, le graffe o altre cose. Per cui le persone in questo momento stanno comprando questo prodotto probabilmente non sono più interessati al sale dell'Himalaya. Cioè quel prodotto che era prima un elemento estremamente differenziante e molto interessante, ora diventa un prodotto che probabilmente non ha più quell'appeal perché le persone, che ne so, al mattino, mentre fanno colazione, sono più interessate ad avere più caramello sul dolce che avere un caramello con il sale dell'Himalaya. In questo momento è cambiato il contesto e il tuo prodotto è totalmente spiazzato, nonostante è un prodotto di qualità. Questo è uno spunto interessante. Ci sono due cose che mi sono venute in mente. Tu dici tu, quando mai? Me ne sarebbero venute quattro, però me ne sono due. Perché intanto quando noi stiamo cercando dove posizionarci, qualcuno che ci ascolta probabilmente l'avrà già fatto pensando come posso differenziarmi. Allora noi stiamo inseguendo di differenziarci in questo caso, non lo so, sulle torte classiche da compleanno, per capirci. Stiamo lì, per cui facciamo fatica, ci sono già altri concorrenti grossi che hanno già un loro mercato e noi cerchiamo di fare la torta in una certa maniera per trovare questa distinzione. Non ne veniamo fuori. nel mentre andiamo a tagliare la fetta e capiamo che la fetta invece non è più il mercato della festa di compleanno, dove devo prendere comunque la torta, devo portarla a casa perché dobbiamo festeggiare. Ok, quello è il mercato, dovrebbe essere in teoria. Invece la fetta piccola non è più il mercato del compleanno, ma cambiamo proprio contesto perché mi sto anche riferendo a chi. A chi magari la mattina va a fare colazione e vuole una fettina di torta, quindi non prende. Quindi quella fettina diventa ricercata. Non penso più a creare la torta, anzi la mia torta non la faccio più vedere perché li presento proprio al banco già tagliate queste fettine con una confezione particolare, con una carta particolare, con una filigrana nella carta con una firma, con un taglio preciso. Magari taglio anche il taglio, cioè della torta non è quello classico, ma è un po' a zig zag. Sto improvvisando perché io le torte, saluto anche Cinzia che so che è golosa anche lei, non le torte le mangiamo come Pac-Man, quindi non facciamo questa differenza. Però c'è questo. Diceva proprio la torta diventa un muffin perché è più piccolo, dicevi tu. Quindi questa è una cosa fondamentale perché nei momenti in cui cambia questa cosa ci rendiamo conto che possiamo essere competitivi e posizionarci. Però dov'è il blocco? Sai cosa penso? Che di base c'è anche un blocco mentale. Questo blocco mentale io lo estendo a tante cose, non solo al posizionamento. faccio un esempio cercando di spiegarmi su questo aspetto. Io sto seguendo un obiettivo nel fare qualcosa. Per esempio mi voglio distinguere, stavamo dicendo, sul mercato delle torte. Io farò il mercato delle torte figo eccetera eccetera. Continuo a fare questo lavoro e insisto. Nel momento in cui mi sto rendendo conto che quella fetta potrebbe distinguermi trovo una sorta di contrarietà. No, non lo posso fare. E ho detto che devo fare questo e devo rimanere nella torta. Ormai mi sono mosso per muovermi nella torta. Ci creiamo noi un blocco mentale. Credendo come se il mondo ci stesse osservando in quella torta, in quel mercato. Invece non ci sta vedendo nessuno. Ma questo lo dico in tutte le cose. Quando uno dice, ma ti faccio un esempio con un video. Sai quante volte mi capita che mi devo fare questo blocco? Ho registrato un video e dopo un po' questo video ha preso una strada diversa. E io dico, ma porca miseria, ma il video doveva essere questo. Doveva essere questo cosa, Giuseppe? Chi lo sapeva che lo stavi facendo tu da solo? Capisci che ci sono questi blocchi che delle volte ci fanno diventare così testardi in quello che è essere posizionamento e ci dimentichiamo con l'occhio di tenere d'occhio, per esempio, in questo caso, il muffin, che invece era la differenza. Analisi corretta. È proprio così. A volte succede anche qualcosa di ancora più subdolo. Cioè ti cambia il mercato sotto gli occhi e tu non te ne accorgi. Cioè tanto per rimanere sempre nel tema delle dolcezze, per cui sia tu che Cinzia sarete felici. Mamma mia, quando finisco poi mi vado a mangiare qualcosa. Tu immagina che stai producendo dei muffin appetitosi, però hai capito che oggi le persone magari non vogliono ingrassare e così via. Quindi hai creato un muffin con un ridotto apporto di zucchero, cioè una ridotta quantità di zucchero, magari con poco burro. L'hai fatto, insomma, hai fatto un muffin dietetico. E quindi hai messo sul mercato questo muffin dietetico. È chiamato muffin light, per fare un esempio, quindi con poche calorie. E le tue vendite stanno andando bene, sono andate bene per un certo periodo di tempo. Poi a un certo punto ti accorgi che le vendite cominciano ad avere un calo. E che cosa succede? Succede che forse scopri, andando a indagare, che probabilmente è uscito sul mercato un tuo competitor con uno snack senza glutine salutista. Che cosa è successo in realtà? Perché questo snack sta vendendo e tu no? Sta vendendo perché forse il mercato si è spostato dalla voglia di stare a di sentirsi, insomma di stare a dieta, questa cosa che dice no devo stare a dieta perché non devo ingrassare, si è spostato magari verso un concetto diverso di salute, di sentirsi in salute, di mangiare cibi di un certo tipo. Quindi si è spostato il mercato concettualmente da una parte all'altra, da mettersi a dieta perché è giusto avere un corpo sano, a sentirsi in salute mangiando cibi di un certo tipo di qualità eccetera eccetera e tu sei tagliato fuori. Quindi il tuo prodotto è sempre lo stesso, il mercato è cambiato e sono cambiate tutte le aspettative dei tuoi clienti e tu stai cominciando a perdere non posizionamento ma semplicemente stai perdendo un analo, cioè stai andando indietro. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è che nel momento in cui hai trovato un posizionamento questo vive per sempre, devi continuamente capire il contesto nel quale ti stai muovendo e se il mercato sta cambiando perché a questo punto quello stesso muffin può essere riposizionato sul mercato questa volta dicendo guarda che io invece di dire che è un muffin dietetico dice all'interno non c'è lo zucchero ma ci sta un'altra cosa e lo vendi come un prodotto salutista. E io a questo punto posso andare a mangiare qualcosa, non lo so perché sembro Pavlov il cane che senza campanellina ma sta sbavando per la speranza di vedere che arriva un muffin qualcosa di questo ma niente, vabbè, vai, vai. Allora andiamo un po' più nello specifico, abbiamo fatto tutto questo largo viaggio e scorso insomma su quello che è il posizionamento in generale ma ora scendiamo un po' più nel particolare. Diamo qualche consiglio, iniziamo con quattro pilastri importanti secondo me che bisogna tenere tenere presenti che sono cosa percepisce il cliente, in che modo sei diverso, le caratteristiche del tuo cliente ideale e poi diciamo il tuo miglior contesto, ne abbiamo appena parlato, per esaltare il tuo prodotto. Allora iniziamo con il primo, poi magari ci confrontiamo su queste cose in modo tale che andiamo avanti per almeno altri 12 anni su questa... Ma anche tu, caro mio, ma che argomento scegli? Ho scelto un argomento lunghissimo, pensavo di riuscire a farlo in mezz'ora ma... Allora, no, invece queste cose sono importanti, poi sono importanti almeno questi primi quattro punti, poi vediamo il resto. Sicuramente cosa percepisce il tuo cliente... Allora, il primo punto che devi tenere presente è che molto spesso si parte dal prodotto, mentre in realtà bisogna partire dal cliente, quindi cosa percepisce il cliente sul suo problema e quali sono per lui le attuali soluzioni? Questa è la sintesi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni persona ha dei problemi e delle esigenze. Quando ha dei problemi e delle esigenze si guarda attorno e ha un, io lo chiamo, un pattern di soluzione. Cioè nel senso la domanda è, ok, se non ci fosse il tuo prodotto oppure il tuo servizio, le persone per risolvere la loro esigenza, cosa farebbero o a chi si rivolgerebbero? A questo punto analizza questa risposta e comincia a capire qual è l'idea che il cliente ha rispetto al suo problema e quali sono le soluzioni che in questo momento ha a disposizione. In questo modo riesci già a capire in che modo il tuo prodotto è diverso. E andiamo al punto numero due. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, caro Giuseppe. Ma sì, hai detto tutto. Vi veniva da dire, da aggiungere il fatto che in quel momento che fai questa analisi vai a vedere anche quello che è il mercato che offre. Cioè l'hai già detto in realtà, vorrei andare a sottolineare questo aspetto. Cioè rispetto a quello che percepisce la persona su quella soluzione. Non so, mi devo pulire il naso, so che ci sono i fazzottini di carta. E allora che cosa offrono gli altri? Offrono i fazzottini di carta di un certo tipo, alcuni sono soffici, alcuni sono profumati. Tu lì, e loro pensi che è sufficiente quella cosa lì? E soprattutto sanno che magari, facciamo finta che non esistessero quelli profumati. Allora tu dici, sai che magari alla menta potrebbe essere d'aiuto? E allora cerchi di focalizzarti lì. Ma attenzione, cosa percepisci? E anche che livello, mi verrebbe da aggiungere, di cultura sono su quel tipo di prodotto. Perché altrimenti devi anche pensare che tipo, che cosa devi comunicare tu. Vai avanti. E questo è molto importante quello che ho detto. Perché tu puoi dire, ok, io vedo che sul mercato... Qua stiamo andando un attimo in te, siamo in... Come al solito. Popcorn. Come al solito. Perché tu ragioni, non dici, ok, io vedo che sul mercato le persone quando hanno un po' di raffreddore, hanno bisogno di, insomma, soffiarsi il naso, dove si rivolgono, si rivolgono ai, usano i fassolettini di carta. Per cui sul mercato sono questi fassolettini di carta. E sono di questa tipologia. Io invento, voglio proporre sul mercato i fassolettini di carta che profumano alla menta. A questo punto la domanda numero due è, in che modo sei diverso? Ok, propongo la menta, ma se ciò è davvero, ha davvero valore per i tuoi clienti. Cioè questo poi è un punto importante. Ora ti dico anche il tre, il quattro e poi ne discutiamo assieme. Quindi, in che modo sei diverso e se ciò ha davvero valore per i tuoi clienti? E al punto numero tre, quali caratteristiche ha un cliente? Cioè, bisogna devi riflettere su qual è il tuo cliente ideale. Cioè, ovvero, che caratteristiche ha il mio cliente ideale, ovvero un cliente che veramente possa capire il valore del mio prodotto, apprezzarlo e acquistare la mia soluzione magari senza sconto. Quindi non sto vendendo con lo sconto, eccetera. E quindi la leva del prezzo. Cioè, qualcuno che proprio amerebbe acquistare il tuo prodotto così com'è. E punto numero quattro, qual è il miglior contesto in cui io posso inserire il mio prodotto, così com'è fatto, in modo tale da poterlo esaltare. Perché è chiaro che se io creo delle fantastiche scarpe da running e poi cerco di andare, non so, in un povero villaggio africano dove le persone magari non hanno neanche i soldi di comprarsi le scarpe normali, quelle scarpe tutte sofisticate non ce ne faccio niente. Quindi non è il contesto giusto per poter andare a vendere quelle scarpe da running. Questi sono i quattro pilastri fondamentali sul quale andare a basare il ragionamento per andare a fare il nostro posizionamento. E allora, quello che dicevamo sul discorso della cultura, mi stava venendo in mente una cosa che forse abbiamo già citato da Positioning, tra l'altro il libro che abbiamo detto poco fa, quell'esempio del sigaro, non so se tu te lo ricordi, quello del sigaro profumato. Ah, sì, sì, come no. Adesso non mi ricordo sinceramente, sto dicendo una cavolata se fosse in quel libro. Sicuramente io l'ho letto da qualche parte, ce l'ho in testa, come uno dei tanti esempi che vengono fatti. Però penso che per capire quello che stavi dicendo, cioè per dare un elemento in più, è proprio questo. Cioè io, che ne so, i sigari puzzavano, era questo il senso, un sigaro puzzo. Ok, che cosa facciamo? Faccio dei sigari profumati che quindi non lasciano il cattivo odore. Era questo. Però poi che cosa hanno capito? Che alla fine questi sigari non si vendevano. Perché non si vendevano? Non si vendevano perché io che fumo questi sigari ero talmente a suo effatto che quella cosa lì non la sentivo. Quindi avevo fatto un prodotto che sul mercato era inutile. Perché c'era tutto quello che stiamo dicendo qua. Che cosa percepisce il cliente? Perché se è diverso e soprattutto se quella diversità ha comunque un vantaggio per quel tuo ipotetico cliente. al di là del contesto, caratteristiche di quello che è. E quello che significa anche in questo caso educare il cliente a una certa cosa. In questa maniera col sigaro non l'avresti mai fatto. Che cosa gli devi educare a uno che fuma? Zero. Gli devi trovare un'altra cosa. Cioè lui non ti segue, non stai parlando un altro linguaggio. Poi invece ci sono i casi in cui tu stai offrendo un tipo di prodotto per la quale torniamo al discorso dei fazzolettini. Noi dobbiamo comunque a quel punto cercare di spiegare se riusciamo a fare anche una comunicazione e far capire perché poi tu hai bisogno di quei tipi di fazzolettini. Questa cosa anche se viene dopo mi permetto di dire che è un punto anche da considerare in questa fase. perché ci sono alcune tipologie di cliente che non riesci a cambiare cioè proprio a meno che non sei non so se si dice tecnicamente a culo se si può dire però è difficile che ciò accada e spesso noi ci impuntiamo una sorta di sindrome della croce rossina su cambiare quel cliente. Il cliente ideale in realtà non l'abbiamo visto ce lo stiamo immaginando noi non l'abbiamo testato e quindi facciamo ancora più difficoltà. Infatti una cosa che andrebbe fatto è quello di c'è un termine tecnico che in questo momento mi sfugge però una cosa che andrebbe fatta a volte è quello di creare il prodotto nella versione minima. Quindi tu ad esempio stai sviluppando un software che fa n cose però poi di base questo software dovrebbe soddisfare un certo tipo di problematica. Allora inizia con la versione minima funzionante del tuo prodotto mettila sul mercato o magari in un mercato di test e comincia a vedere qual è il feedback. Cioè se effettivamente questo prodotto funziona se veramente può avere un mercato perché molto spesso è tutto nella nostra testa cioè siamo noi che immaginiamo che ci possa essere questo mercato immaginiamo che le persone avere dei fazzolettini a righe rosse al profumo di mango è una grande idea perché noi siamo appassionati di mango poi ci accorgiamo che le persone non frega proprio niente di fazzolettini al profumo di mango cioè non sarebbero disposte a spendere più soldi o a cambiare tipo di fazzolettino per avere il fazzolettino al profumo di mango quindi sperimentare iniziare a venire fuori con la minima versione del prodotto metterla sul mercato immediatamente avere un feedback e attraverso questo feedback poi non è detto che tu debba rinunciare alla produzione del tuo prodotto però magari attraverso questo feedback puoi cambiare e quindi inizialmente avevi intenzione di creare la torta e andarti a posizionare nei ristoranti stellati e andare a vendere la tua torta con il sale dell'Himalaya poi a un certo punto scopri che probabilmente con la torta se la fai più piccola abbiamo detto funziona meglio e non ti vai più a posizionare lì ma ti vai a posizionare all'interno dei caffè magari anche caffè di un certo tipo ma non vai più a produrre quel tipo di prodotto ma ti vai a spostare leggermente su un altro tipo di prodotto e magari funziona molto meglio perché lì c'è una richiesta di caramello scopri che i tuoi potenziali clienti amano più il caramello che l'idea di un caramello con il sale dell'Himalaya mi stai ammazzando ti sto ammazzando vai avanti quali sono i passaggi per arrivare a questa cosa dai vai avanti guarda i passaggi allora i passaggi fondamentali prima di chiudere con i dieci punti fondamentali sono questi qua che poi in realtà al di là dei dieci punti quelli veramente importanti sono questi il punto numero uno è l'analisi della concorrenza e l'abbiamo detto prima cioè capire cosa farebbero i tuoi clienti se non ci fosse la tua soluzione cioè questa è la domanda che ti devi fare cosa farebbero i miei clienti se non ci fosse la mia soluzione è da qui che capisci due sono gli attributi unici cioè quali sono i tuoi attributi di valore ma che devono essere unici anche per i tuoi clienti cioè questo è molto importante tu pensi di avere gli attributi unici va bene ma sono unici anche per i tuoi clienti sono importanti anche per i tuoi clienti tre qual è il valore che questi che questi attributi danno di concreto al tuo al tuo cliente cioè il tuo cliente dà valore a questo attributo questo attributo è veramente un vantaggio per il tuo cliente e questa è un'altra cosa importante a quel punto l'abbiamo detto il mercato di riferimento ovvero quali sono quelle persone che sostanzialmente amerebbero comprare il tuo prodotto senza chiedere sconti che caratteristiche hanno e che caratteristiche hanno perché è una cosa che molto spesso si dimentica che apre un po' corno a volo ma giusto per chiudere che ormai siamo in chiusura il cliente ideale è un cliente che A. ha un problema B. sa che tu hai quella soluzione C. è in grado di capire come funziona la tua soluzione in questo momento vuole prendere quella soluzione che tu stai proponendo e poi punto numero 5 fondamentale se lo può permettere perché molto spesso ci dimentichiamo di quest'ultimo punto cioè si può permettere di acquistare la tua soluzione e poi un'ultima cosa che va presa in considerazione che è importante è la categoria di mercato in cui noi ci andiamo a posizionare e che è una cosa a volte un po' complessa da capire la categoria del mercato perché è sfuggibile questo concetto però lo sintetizziamo in una maniera molto semplice se tu entri nel mercato delle auto le persone non si immaginano che la tua auto abbia tre ruote quindi il mercato delle auto cioè la categoria di mercato vuol dire che quando ti posizioni in una categoria particolare le persone prima ancora di vedere il tuo prodotto immaginano che abbia delle caratteristiche di base e quindi quelle caratteristiche di base devono essere soddisfatte se hai una torta deve essere dolce se fai una torta salata probabilmente è un altro tipo di cosa che non mi aspetta e mi spiazzi quindi bisogna stare attenti su questa roba Giuseppe non so se tu ci sei ancora che qua stiamo parlando di torta e penso che tu hai perso è dura è dura è dura ascoltarti sottolineo soltanto un punto mentre parlavi che secondo me è fondamentale è il momento il momento perché il momento può far cadere tutto cioè se io magari ho seguito tutti quei punti là che dovevo seguire per fare un posizionamento per ricevere un prodotto eccetera eccetera becco il momento sbagliato mando tutto a prostitute ecco va bene così è questo quello che è è un po' come se io ho delle frasi dedicate poi devo parlare con il mio partner con la mia partner devo dire delle cose arrivo che so appena rientra dal lavoro è in un'ora proprio di punta non ti sente nemmeno ti manda a quel paese è distrutto e litighi cioè è questo che succede poi alla fine facciamo sempre una relazione per cui il momento tra tutte le cose che hai detto il momento ricordiamocelo molto bene mettiamocelo bene in testa quel prodotto quel servizio che stiamo offrendo sono e stiamo entrando nella vita ipotetica di questo potenziale cliente nel momento giusto questo è veramente una cosa che io ho visto anche errori perché ho visto delle cose ben fatte ma che hanno sbagliato il momento guarda il momento è fondamentale perché mi fa venire in mente anche un altro punto interessante che è quello di sfruttare una tendenza cioè a volte quando tu stai preparando un prodotto lo stai lanciando sul mercato oppure già ce l'hai già sul tuo mercato devi semplicemente riposizionarlo a volte sfruttare una tendenza può essere veramente una grande leva in questo momento non ho grandi idee però se hai un certo punto ti accorgi ecco riprendendo il discorso sempre del muffin eccetera se ti accorgi che la tendenza del mercato in questo momento c'è una forte tendenza verso i cibi sani e tu hai un prodotto che comunque è fatto con ingredienti di valore ingredienti sani che fino a oggi non hai venduto sotto questa lente ma l'hai venduto sotto un altro tipo di lente puoi semplicemente prendere questo prodotto e riscrivere la comunicazione di questo prodotto andarlo a riposizionare e a questo punto presentandolo come un prodotto fatto con ingredienti estremamente sani perché? perché stai seguendo questa tendenza se a un certo punto c'è la tendenza del ecco c'è stata la tendenza senza olio di palma e il tuo prodotto non c'ha l'olio di palma a questo punto cogli l'occasione per andarti a posizionare in quella cosa e poi un'ultima cosa voglio dire prima di lasciarti con il tuo super riepidogo in questo caso penso che sia molto importante è sintetizzare il tuo il tuo posizionamento in maniera semplice cioè nel senso una persona deve essere in grado di dire tu chi sei cosa vendi e qual è il tuo elemento di valore veramente in poche parole ci devo capirlo che tu sei l'esperto di lead generation tu sei l'esperto di public speaking tu sei quello che fa le torte senza glutine tu sei quello che fa i fazzolettini alla menta che profumano alla menta cioè devi avere la capacità perché altrimenti ti è difficile diventare first in mind cioè è difficile diventare il primo che salta in mente quando il cliente ha un certo tipo di problema o di esigenza se tu fai tutto di tutto allora non vieni in mente mai non sarai mai il primo perché non sei mai preso in considerazione per il tuo vero elemento di valore poi puoi fare anche dell'altro però è importante avere qualcosa di fortemente riconoscibile lui è quello che si occupa di questa cosa poi ne fai anche degli altri lui è quello che fa la pizza che ci mette sopra la mozzarella di una bufala albina sto inventando poi chiaramente farai anche altri tipi di pizza la bufala albina è venuta adesso ladies and gentlemen a meno che non vuoi dire qualcosa Giuseppe dopo la bufala albina non volevo neanche fare che cosa vuoi dire più neanche il riepilogo volevo fare però se lo chiedi vai il riepilogo di Giuseppe Franco ed eccoci con l'appuntamento ormai in versione un po' dolciaria di quella che è il posizionamento il posizionamento quello che dovremmo avere di ogni tipo di prodotto aggiungerei anche di servizio partendo partendo da un libro interpretato magistralmente intendo il titolo dal nostro Massimo Petrucci Obviously House Home di Apple Danford dove abbiamo cercato di tracciare i punti cardine di questa puntata alcuni punti a proposito ne approfitto per dirti quali sono alcune cose dove ci siamo soffermati se poi vuoi riascoltare questa puntata il contesto quanto è importante il contesto perché il contesto può farci cambiare la percezione di chi ci sta ascoltando seguendo in quello che sono i nostri prodotti i nostri servizi abbiamo visto anche un esperimento che ci fa capire come il contesto parliamo di un violinista poi il nome te lo vai a cercare perché dentro la puntata torna indietro questo violinista che comunque messo in un contesto diverso aveva perso del valore riflessione che ci ha accompagnato per parlare poi di quello che significa di cambiare il prodotto cambiare il mercato soffermandoci su quelli che sono quattro pilastri potremmo dire importanti del posizionamento cioè capire cosa percepisce il cliente in che modo siamo diversi le caratteristiche del tuo cliente ideale e il tuo miglior contesto per esaltare il prodotto spostandoci in avanti per andare a vedere quali sono i passaggi per far sì che siamo in un posizionamento accettabile abbiamo tracciato parlando anche di momento come sia importante il momento per cercare di capire che il momento se noi sbagliamo un momento forse tutto quello che abbiamo costruito non funzionerà perché abbiamo beccato captato il nostro cliente in un momento appunto sbagliato e abbiamo finito con quella che è una sorta di decalogo di dieci passi che ci aiutano a rendere più efficace il nostro posizionamento il numero uno era capire il cliente per arrivare poi a come sintetizzare il tuo posizionamento questa sintesi perché attenzione una volta che abbiamo creato trovato il posizionamento dobbiamo anche essere in grado di comunicarlo di essere chiari nel farlo e dobbiamo fare un test perché può darsi che quel posizionamento che noi abbiamo immaginato nella nostra testa ancora non è stato percepito dal nostro cliente fantastico e detto questo continuate a stare nelle vostre navicelle in viaggio verso il pianeta salvezza e siate felici ovunque voi siate ciao e io vado a prendermi una torta ciao hai domande? lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana tutte le puntate di mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes Google Podcast Spotify YouTube e Spreaker inoltre su 667.agency slash podcast trovi link a video libri e a molte altre risorse e a molte altre risorse